Giuse, apriamo il piccolo corner di educazione finanziaria, poi torniamo con i libri, torniamo al nostro piccolo corner di educazione finanziaria. Questa sera vorrei parlare con te, si spieghi in maniera semplice, come sta aiutando molte persone a capire, questa volta abbiamo parlato del KID, il famoso KID, andiamo sul sito a rivedere cosa vuol dire. Questa volta parliamo dei fondi, cosa sono i fondi di investimento? Beh sì, proprio nell'ultima puntata abbiamo parlato del KID, che era il documento che ci fornisce diciamo in maniera sintetica tutte le informazioni relative al fondo comune di investimento. Ma che cos'è il fondo comune di investimento? Il fondo comune di investimento possiamo cercare di prenderlo in parole semplici anche con qualche immagine, possiamo immaginarlo come un salvadanaio a cui contribuiscono un po' tutti coloro che vogliono partecipare a questo fondo comune, risparmiatore e gli investitori che vogliono contribuire con la propria liquidità, con il proprio investimento. E a monte di questo, per la gestione di questo salvadanaio c'è un gestore che farà il meglio per dare il risultato in termini di rendimento in virtù delle proprie strategie di investimento per poter valorizzare, per poter promuovere il proprio fondo comune e quindi crescere il capitale di questo fondo. In realtà è uno strumento di investimento che si adatta molto a varie tipologie di investitori, l'abbiamo già detto in altre occasioni e vale la pena ripeterlo, perché all'interno del fondo comune ci può essere il grande investitore, quindi con un apporto di capitale importante e può essere accessibile anche ai piccoli investitori con una programmazione di accumulo capitale che sia in proporzione al proprio reddito, alla propria capacità di risparmio. E questo è molto importante perché fa in modo che anche persone che hanno delle cifre limitate possano decidere di accantonare per avere un obiettivo alla fine, oltre all'investimento, quindi per avere un piccolo tesoretto, definiamolo così, per proseguire con la serie di immagini, un piccolo tesoretto da destinare a un progetto. Quindi però l'abilità del consulente è conoscere questi fondi. Certo, perché all'interno dei fondi, qual è il plus dei fondi? Che il gestore ha la possibilità di acquistare diverse tipologie di asset, dove per asset si intendono gli strumenti che possono essere messi all'interno del fondo. Possono esserci delle azioni, possono esserci delle obbligazioni, possono esserci strumenti che diversamente il singolo investitore avrebbe difficoltà a poter acquistare, a poter gestire in autonomia. Quindi l'opportunità che ha attraverso il fondo è che c'è un gestore che gestisce appunto questa massa di capitale scegliendo, facendo una selezione dei vari strumenti a disposizione. Ovviamente non c'è un fondo comune che va bene per tutti. Ogni fondo comune, in virtù anche del proprio profilo di rischio, quindi c'è chi sceglierà l'azionario, c'è chi sceglierà un obbligazionario, un liquidità, un bilanciato, una flessibile. Ci sono varie tipologie. Sta lì l'abilità di potersi rivolgere ad un consulente finanziario, chiedere approfondimenti sulle caratteristiche del fondo comune e scegliere quello che è più adatto ai propri obiettivi temporali di investimento e al proprio profilo di rischio. Siete dei medici di base insomma come consulenti che conoscono gli specialisti. Certo, rilevando le informazioni che ci dà il cliente durante il nostro colloquio, durante il dialogo, i più incontri, perché abbiamo detto più volte che ci sono vari obiettivi temporali, ci sono obiettivi temporali di medio, breve e lungo periodo. Quindi in virtù di quello che sono gli obiettivi del cliente, quello che vuol raggiungere, si va a selezionare gli strumenti più adatti alle proprie esigenze per il raggiungimento appunto dei suoi obiettivi. Molto importante questo aspetto qui anche per le emozioni che ci sono in finanza per delegare la famosa finanza comportamentale. Certo, il fondo comune è lo strumento diciamo come concetto di funzionamento indipendentemente dalla SGR o dalla SICAV sottostante, perché ci sono veramente molte case di gestione, molte SGR e molte SICAV, per cui indipendentemente dal nome specifico, lo strumento in sé è un ottimo strumento perché l'investitore ha la possibilità di accedere a certi strumenti che nella gestione autonoma, come diceva l'altra volta il dottor Boccaletti, rischieresti più di perdere che di guadagnare. Cioè fare una gestione in autonomia, un fai da te, è una perdita sicura piuttosto che una valorizzazione del proprio capitale. Quindi delegare il gestore in questa tipologia di selezione, nella gestione delle strategie, è importante perché innanzitutto limita quelli che sono gli errori di una persona che non è uno specialista, di un fai da te, assolutamente. E soprattutto bisogna conoscere il mercato, quindi andare a individuare appunto i momenti di euforia piuttosto che momenti di eccessiva volatilità, quindi mettersi al sicuro da questi momenti instabili, incerti, e una persona che non è uno specialista e che non fa solo quello non avrebbe il tempo da dedicare, non avrebbe così tante energie di edizione. C'è chi per passione lo fa e si specializza, ci sono molti investitori che magari approfondiscono certe tematiche. A parte l'educazione finanziaria, più educazione finanziaria c'è più... Abbiamo detto l'altra volta col KID, il KID che è lo strumento informativo che parla delle caratteristiche del fondo, del rischio, dei rendimenti storici... In maniera semplice. In maniera semplice e comprensiva, quindi permette all'investitore di essere un investitore consapevole e informato ed essere assolutamente lucido nella selezione, nelle proprie decisioni finanziarie, assolutamente. Benissimo, grazie Giusy per questo piccolo angolo di educazione finanziaria, che troverete le varie pillole sui social, andate a vedere... Certo, e poi qualora dovessero avere altri approfondimenti ci possono anche scrivere. Un tuo contatto diretto sul sito, Giusy? Nel sito, do la mail di YourSolution, è info-your-solution.it e poi il numero di telefono 0372-20405. Grazie Giusy per il tuo angolo di educazione finanziaria, il Damif. Grazie a tutti.